Ciao a tutti ragazzi, io sono Andami e oggi siamo di nuovo qua su Firewatch Nell'episodio subito dopo all'intro Siamo appunto qui, dobbiamo entrare nella torre e appunto Ora saliamo, facciamo appunto questo giretto qua E vediamo cosa ci offre questo fantastico gioco Guardate anche il paesaggio, abbastanza carino, siamo circondati dalle montagne Abbastanza bello dai, abbastanza bello Qui è tutto chiuso, ok c'è una porta qua Apri, accendi la luce Interruttore Ok, forse bisogna, ok, interruttore per generatore, uso Ok, perfetto, accendi la luce, ottimo Oh, ciao Radio, raccogli Ok Cosa dobbiamo fare? Rispondi, tini in più un'altra shift, sì, ok Per se ne azionare il dialogo, per parlare Ehm, hello, whoever this is It's Henry, right? Yeah I'm Delilah Yeah, that's what the guy said on the phone So, what's wrong with you? Excuse me? Ma, ma che cazzo Ah, ok, hai ucciso tre ex mariti Potrebbe essere Ti stai ribellando contro tua madre e nessuno riesce a sopportarti Ti stai ribellando contro tua madre Um, you're probably just rebelling against a mom who wishes you had given her grandkids By the sound of your voice at least 15 years ago You come out here and it really grinds your gears and you love it Can I sleep now? Well, she also says I fuck immature men But in my defense I don't want a 28-year-old with ambition and energy and some fire in his belly in bed Me, I'm going now Just a second, now it's my turn Ok, goodnight, bye Wow, che figo Questo è stato appunto la prima, diciamo Il primo incontro con Delilah Che sarà quella che ci guiderà praticamente in tutto il nostro World True Ok, allora, rispondi alla chiamata della radio Ok, ho già capito come funziona E invece, lui dice che stava dormendo però Stava scrivendo tutte queste cose Ma dove, ha un reloce rotto E si Ok, sì, lo vedo Questo è l'Osborne Firefinder Inventato in 1914 Da W.B. Osborne Usa questo per spazio Tu avessi lo Fai What the fuck Cosa? Niente Um, tu, uh Usa questo per Oh, fuck me Ma che cazzo sta facendo? Out your west facing window Are you seeing what I've seen? Oh, west Cazzo Eh sì, ma Eh, infatti Dovrebbero essere legali in un parco del genere Ok Eh, tipo prenderli a calci Dobbiamo prendere a calci qualcuno in sta serie, di sicuro Spacchiamo tutto Ok Dobbiamo trovare la corda Che sicuro Ma che cazzo Peggio delle password di mia madre Eh, intelligente Ma che cazzo Ok, comunque dobbiamo trovare appunto una corda Che si trova in un box di rifordimenti Questa è la nostra mappa Noi siamo qua Dove c'è il pallino E dobbiamo appunto andare dritti Verso John John S John S Lake Ok Andiamo Ci sta, ci sta Togliamo questo Si può correre Come si corre C'era un modo per correre R Ok, perfetto Si corre Andiamo Vediamo un attimo Bello Mi piace un sacco questa grafica Ok Eh, spazio Andiamo Dai che siamo tutti cazzuti E dobbiamo andare a togliere il Il fuoco d'artificio A quelle persone laggiù Ok, quindi questo è il nostro rifornimento deposito Ok Ci siamo Ok Mappa copia informazioni Quindi lo facciamo Ok Cosa fa Ah ok Quindi adesso abbiamo più cose Ah si Ci ha segnato Più Medicine Wheel Che cazzo è Ci ha segnato più sentieri Praticamente Così Quindi penso che in ogni coso Ci sarà un Un coso Ho trovato una nota Una nota su una coppia di tizi La mangiamo noi minchia Io ho fame Ah Poteva dirmelo prima Trovato quella corda La prendiamo E c'è qualcosa da Prendere altro Pigna Perché ci sono sempre le pigne Non voglio le pigne Ok Affronta chiunque stia lanciando i fuoco d'artificio Quindi dove dobbiamo passare M Il lago e Il lago e la minchia Ma dobbiamo fare un sacco di strada Vabbè noi andiamo dritti Andiamo dritti Togliamo la bussola La bussola La togliamo E corriamo Andiamo così C'era Ho anche un'altra strada Però penso che questa sia quella lì dritta Che abbiamo visto Quindi Facciamo in questo Modo Ok Comunque Ho parlato di questo gioco sul gruppo di telegram Da cui potete arrivare solo dal canale di telegram Quindi dovete assolutamente iscrivervi prima al canale di telegram Per poi prendere il link per il gruppo E andare sul gruppo E Alcuni di voi appunto non sapevano che cosa fosse sto gioco qua E Queste bastardi Un scivolo roccioso e ripido Ottimo Guarda dello zoppo Mi piacerebbe andare con fabbrica Vedove Ok Ok Mi ha aggiornato pure la mappa Quindi penso che queste cose qui Te le Oh cazzo Morto Bon perfetto Finito Day one Bon Finito già il lavoro Ok Vediamo un attimo Cosa possiamo fare Morto Ancora vivo Che saldo ci siamo fatti Tipo forse da lì più o meno Hey What the hell is wrong with you? My shitty boss almost got me killed First Your boss is a delight Secondly Jesus What exactly happened? My rope snapped coming down the shale slide He didn't break anything did you? No I think I'll make it Esatto Ci spaccheremo tutto Ehm Cosa Ah qui c'è un campo Villaggio Di sti Bastardi Ma che che Ma è pieno di birra Stal cosa qui Penso siano birra Perché sono lattine Oh oh E sugo E birra Segnare la tele di birra Questo dobbiamo prenderlo E confiscarlo Attenzione Ora proprio si fa vedere Il nostro Sarà per dopo E questo lo salvi per dopo Assolutamente Ehm Qui ci sono degli zaini Magari Non si possono aprire Spegni va Questo Sempre Attenzione a spegnerlo Anche perché Penso sia un periodo Che fa Abbastanza caldo Boh Noi andiamo poi Ma che cazzo Il modo in cui l'ha detto Raccogli Esamina Ma che cazzo Via Butta via L'hai buttato via Bravo Quindi sono ragazze Ehm I che sento ah c'è una radio qua anche raccogli possiamo darci no? ok grazie ok ritorno alla vedetta figo dovevamo buttargli lo stereo dentro l'acqua di Osand perché cioè delle persone così benissimo è andata bene ma figurati sto meraviglioso perché è peggiore cavolo eh come torni dietro tu andresti ma quindi dobbiamo tornare al lago dobbiamo tornare al lago stai fermo un po' lago si ci sono dei sentieri boh proviamo non lo so facciamo un giretto tanto siamo a 13 minuti hey proviamo a vedere un po' se ci sono ancora queste donnette ahhh reggiseno scandalose stai qua scandalose almeno portarsi la biancheria tipo qua vicino no eh cartello ah ecco esatto andremo sicuramente da dove siamo arrivati perché non ce la faremo penso che devo andare su di qua penso non lo so però vedo che c'è il sentiero quindi c'è anche questo l'hanno fatto apposta quindi andiamo salta ok bello dai siamo in mezzo a un canyon dove passa un piccolo fiumiciatolo ruscello più che altro e oddio che caccia ah stava scendendo mi sono spaventato eh perché ci sono le animazioni quelle lì tutte fatte proprio precise quindi in qualsiasi modo tu arrivi deve farti quell'animazione ok una confezione una confezione ok una confezione ah l'obbriato perfetto ok dobbiamo andare veloce a casa allora certo c'era faccio minchia sette volte tanto eh ok andiamo ah perché dobbiamo passare di qua per tornare a casa quindi cos'è 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 attenzione spiderman attenzione ce l'abbia a noi teniamoci la luce accesa perché si ora fa un po' buio che cazzo è chi era oddio però se quello lì chi era potrebbe essere una di quelle ragazze che c'era al lago magari oppure perché altra gente sinceramente non l'ho vista finora quindi non so chi possa essere e spero non sia nessuno di cattivo diciamo cioè non so se sto gioco sia tipo firewatch spegni gli incendi però non credo a questo punto perché se c'era quello lì magari eh sì cartello sentiero chiuso ottimo oh cazzo almeno è caduto in avanti non indietro questo è la cosa buona ok andiamo 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 qui cosa c'è il generatore latrina generatore ok cazzo ci sono venuti a distruggere la casetta qui eh che cazzo no 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 voglio salire fammi solo vedere se c'è qualcuno dentro mi hanno distrutto tutto no cazzo ma cazzo e ora cosa devo fare fin sta la rotta chiudi va si può chiudere ok grazie dai ci sta e no è il ragazzo al lago secondo me è il tizio nel canyon perché non sappiamo se proprio sono state le ragazze però mi sicuro quel tizio era non non Esatto Esatto, con una pistola Anche questa ha ragione Granate Ok, giorno 2 Anche questa ha ragione Anche questa ha ragione